Disabilità, diversità, inclusione sociale, alla mostra di Venezia se ne parla con i film e i cortometraggi selezionati dalla regione Veneto. Laura Gialli. Questo autunno sia il nostro rifugio, il nostro cammino. Trovarsi a tu per tu con le proprie fragilità e affrontarle, magari attraverso i racconti di un malato di Alzheimer, come accade a Sandro, protagonista di La vita che verrà, tornato a casa nella sua occhio bello per riscoprirle e riscoprirsi. E' uno sguardo altro quello che la regione Veneto offre alla mostra promuovendo film e corti a sfondo sociale. Veri e propri cammei per l'anima, come The Women's Angels, presentata da Lido e Bont Warren. E' con Garbo che Emanuela del Zompo racconta disabilità e diversità, invitando a riflettere su virtù, valori e quel senso della vita che da sempre ci spinge verso l'amore.